Le levigatrici professionali Clindex sono utilizzate in tutto il mondo. In una vetrina esclusiva come quella di Marmomac, Clindex, azienda leader indiscussa nel settore delle levigatrici e lucidatrici professionali per pavimenti e superfici, trova l'occasione più consona per approfondire i rapporti con i propri clienti, provenienti da diversi paesi. Clindex opera mettendo al centro delle proprie attività la massima qualità dei materiali utilizzati e una produzione rigorosamente 100% made in Italy. Gli articoli Clindex sono utilizzati per la levigatura e la lucidatura di superfici verticali, pavimenti in legno, parchè, terrazzi, cemento e pavimenti industriali. Si suddividono in modelli a spazzola, quadra o monospazzola. La forte esperienza maturata ha permesso all'azienda di inventare e brevettare un sistema innovativo per la lucidatura, adatto a pavimenti in marmo e in granito. Il sistema fa leva sull'uso di dischi abrasivi diamantati. Questa invenzione ha portato l'azienda a diventare un punto di riferimento nel settore, sia per il mercato italiano che per il mercato estero. A Marmomac 2017 l'azienda propone una nuova linea di prodotti, la serie di levigatrici Expander. Si tratta di una vera esclusiva, in quanto sono le uniche macchine al mondo ad usare una tecnologia autopilot. La serie comprende utensili per lucidare e levigare il marmo, in meno tempo e migliorando l'effetto finale. Prodotti per levigare e lucidare i pavimenti industriali di cemento, levigatrici Levigator, Monofase e Trifase, unica levigatrice al mondo con brevetto ruote di appoggio sferiche e ammortizzate. Una nuovissima monospazzole che usa tecnologia orbitale Mini Orbit e Maxi Orbit, levigatrici endotermiche a propano. CleanDex è sempre alla ricerca di nuove soluzioni sperimentando le tecnologie più avanzate al fine di soddisfare ogni tipologia di esigenza e di anticipare i temi.